Come avviare un'iniziativa per introdurre principi e pratiche DevOps. Ciao, io sono Michele e in questo video parliamo di come gestire un processo di cambiamento per introdurre nuove metodologie in un team. Sigla! Quando vengo contattato per dei progetti di consulenza su DevOps, in particolare su Azure DevOps, spesso le richieste partono da un punto di vista tecnico, cioè c'è bisogno di un aiuto per adottare più rapidamente quelle che possono essere delle pratiche, delle tecnologie per fare o continuous integration, quindi si parla di pipeline, di automazione, oppure delle pratiche per organizzare e gestire meglio il lavoro tramite i work item, le board e così via, oppure c'è chi ha bisogno di capire meglio come gestire i sorgenti con un'adeguata branching strategies e così via. Se da un punto di vista tecnico e tecnologico ci sono comunque dei vantaggi, la cosa più interessante è quando si vanno ad unire tutti i puntini e si vanno ad abbracciare un po' alla volta a livello di team tutte quelle che sono i principi e le pratiche delle tre vie di DevOps di cui ho parlato abbondantemente in questo canale che ti consiglio di spulciare per andare a recuperare un po' dei video precedenti su questo tema. Capita quindi che l'appetito di solito viene mangiando e si voglia saperne di più in maniera più consapevole, si voglia abbracciare la metodologia e la filosofia DevOps andando anche a sapere come intervenire, come impatta sulle persone. Ok, quindi ricordiamo che DevOps è un'unione di persone, processi e strumenti. Gli strumenti sono alla fine, a volte si parte proprio dalla fine per poi andare a risalire dall'inizio. Ecco, quindi come si gestisce poi un'iniziativa DevOps che si andrà ad espandere nel contesto aziendale più o meno grande in uno o più team? Ci vuole un processo, ci vogliono degli step da seguire che andiamo a vedere insieme. Allora ecco come avviene un'iniziativa. Il primo passo, oddio così è un po' troppo grande, Il primo passo è quello del processo, di questo metodo è quello di stabilire un senso di urgenza. Di solito quando vengo contattato un senso di urgenza, un senso di bisogno già esiste, ma può essere più o meno espresso, più o meno latente. E mano a mano magari che o l'analisi iniziale con il cliente o con le attività prendono piede, emerge un senso di voler fare di più, di si capisce il valore di questa iniziativa o effettivamente il problema del team è urgente, è cresciuto di dimensioni rapidamente e si vuole stabilire come lavorare insieme, c'è del caos e si vuole fare ordine, quindi c'è questo senso di urgenza che stimola la rapidità e impegna le persone a voler effettivamente fare qualcosa per o scappare da una situazione che non piace più o voler andare verso un miglioramento. Ecco, quindi il senso di urgenza è fondamentale per un'iniziativa di successo e di solito questo deve essere sponsorizzato, diciamo, abbracciato e avvalorato dai piani alti perché se parte solo dal basso non c'è budget, non c'è commitment e quindi l'iniziativa parte con una palla al piede e spesso muore lì. Ok, quindi questo era il primo passo. Mettiamo di qua, lo facciamo un pochino meglio, mettiamo gli step qui, lo facciamo un po' più grande, questo lo copiamo, ecco, ci spostiamo e queste sono le attività di solito che avvengono in corrispondenza di questa fase, step o fase. Quando abbiamo per stabilire questo senso di urgenza, quindi di solito vengono identificate, lo faccio così, io ho lo stesso, la stessa dimensione, si identificano le criticità. Ok? Stabilisco il senso di urgenza, ho delle criticità. Il secondo passo in questi, in questo processo di adozione di un'iniziativa, di propagazione dell'iniziativa, è quella di formare una guida, un gruppo guida. Ok, quindi di solito, cosa si fa? L'attività, ok, è quello di scegliere un champion team, scegliere un team pilota, chiamiamolo così, pilota, che sarà il primo che in un determinato momento, per un determinato progetto, per un determinato sottinsieme di attività, insomma, in seconda delle criticità che sono state identificate, andrà a provare ad applicare queste nuove tecnologie, queste nuove metodologie, e sarà questo gruppo che viene incoraggiato a lavorare insieme. Infine, terza fase, andiamo a creare una visione, cioè il passo nel creare una visione consiste nell'appunto stabilire, dare un obiettivo, stabilire un perché, un motivo, un motivo chiaro, la visione di questo cambiamento, cioè magari un modo migliore di lavorare, introdurre efficienze in azienda, rendere il business del team di sviluppo, le attività IT più sostenibili, non lavorare più, diciamo, alla vecchia maniera. Ok, quindi dare una visione su dove si vuole andare. Una volta che la visione è stata creata e determinata, la visione va comunicata, quindi comunicare la visione. Quindi, quali sono le azioni tangibili? Ok, sono le attività chiave, sono usare ogni mezzo possibile per rendere nota e diffondere la visione. Quindi, all'interno del team, dell'azienda o di quello che è del contesto, si fa comunicazione in maniera chiara, trasparente, e si spiega dove questo team pilota vuole andare e il perché e qual è la visione più grande aziendale o di dipartimento, insomma, comunicare è la chiave di questo step. Andiamo con il quinto, che è abilitare le persone. Abilitiamo, qual è l'attività? Abilitare le persone intendiamo che dobbiamo eliminare ogni ostacolo che impedisce l'adozione di la risoluzione del problema o il miglioramento che ci attendiamo. Abbiamo a che fare con le persone, quindi ci sono dinamiche anche aziendali. Gli ostacoli possono essere tecnologici e magari abbiamo bisogno di una guida tecnica, di un consulente, di un corso, di acquisire una determinata capacità tecnica, ma possiamo anche avere bisogno di rimuovere ostacoli politici all'interno dell'azienda a seconda del contesto in cui ci troviamo. Dinamiche personali, se i ruoli cambiano, se il modo di lavorare cambia diversamente, ci sarà anche bisogno di eliminare ostacoli di questo tipo. E quindi, di nuovo, la comunicazione è chiave tra le persone ed è questo il motivo per cui deve esserci un approccio dall'alto, un supporto dall'altro, perché solo la leadership può aiutare effettivamente a rimuovere gli ostacoli che impediscono il successo dell'iniziativa. A questo punto, questi primi step sono quelli necessari per spianare e avviare tutto il percorso che con il sesto step è quello di pianificare le attività e in particolare avere delle obiettivi a breve termine. Quindi, a questo punto, si entra sostanzialmente nel vivo attivo operativo dell'iniziativa, ok? Il che significa pianificare... Qua lo step è praticamente autodescrittivo, le attività si spiegano da sole. Quindi, si tratta di pianificare attività rilevanti per il breve, per avere della soddisfazione e dei feedback nel breve, perché così più abbiamo riscontro rapidamente, più abbiamo dei riscontri positivi, ma anche nel caso fossero negativi per capire come adattare o tarare il percorso, prima abbiamo delle vittorie, ok? Rapide e facili, più siamo motivati e l'iniziativa proseguirà con successo, ok? Inoltre, dobbiamo essere grati, siamo grati, riconosciamo l'impegno che queste persone che sono state scelte in questo team pilota stanno portando avanti, perché stanno facendo da apripiste per gli altri. Quindi, dobbiamo sostanzialmente essere grati e riconoscere il valore che stanno portando queste persone. A questo punto, il settimo passo tratta nel capitalizzare su quello che ha fatto il sesto, si tratta quindi di consolidare i miglioramenti, il che significa andare magari a usare le attività sono, che io faccio, uso la mia, usare la credibilità acquisita, ok? Per obiettivi ancora più ambiziosi, cioè mano a mano che il team con quello che abbiamo visto al passo 6 ottiene delle vittorie a breve termine, ottiene credibilità nel contesto aziendale e quindi può andare magari a fare cose che prima non si usavano, trattino, non venivano concesse o non si pensava all'inizio perché non si era sicuri. Adesso stiamo maturando, stiamo portando a casa della fiducia, della reputazione, quindi possiamo andare a consolidare e costruire sulla reputazione che ci siamo fatti. Infine, ottavo e ultimo passaggio è quello di istituzionalizzare il cambiamento. Ricordiamoci appunto che i primi sette passaggi sono stati fatti da un team pilota ed ecco che l'ottava attività è quella di articolare, comunicare, fare report di tutto quello che è stata l'iniziativa pilota, di collegare le attività alla visione, agli obiettivi che sono stati raggiunti e creare una conoscenza condivisa aziendali in maniera tale che tutto quello che è stato appreso possa essere poi diffuso da altre parti dell'azienda. Ok? Ecco quindi qui gli otto step per gestire un'iniziativa di adossione principi e pratiche DevOps, ma più in generale potrebbero essere anche utilizzate per un'iniziativa di un cambiamento più in generale in azienda. Le rileggiamo insieme. Uno, stabilire un senso di urgenza. Se non c'è urgenza, non c'è un vero bisogno, quindi l'iniziativa non partirà mai con l'energia necessaria. Fare un gruppo guida, un pilota che farà da apripista per tutti gli altri. Dare una visione e comunicarla. Abilitare le persone in ogni modo, rimuovendo gli ostacoli, a raggiungere gli obiettivi prefissati. Si pianificano le attività per raggiungere soprattutto delle vittorie, degli obiettivi sul breve termine. Consolidare su queste vittorie e andare avanti, portando a casa obiettivi sempre più ambiziosi e raggiungere gli obiettivi complessivi del progetto. Infine, istituzionalizzare il cambiamento per riportare in tutto il resto della realtà aziendale o in altri team quanto ha preso durante questa attività pilota. Se durante la gestione di un'iniziativa DevOps hai delle difficoltà, mi raccomando, contattami. Puoi trovare qui sotto tutti i miei riferimenti. E per oggi ci fermiamo qui. Mi raccomando, se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto, metti un mi piace e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sui punti di notte posti. Ciao! Ciao!